No? Avete visto la casa? Vosete tornati qui e avete fatto la casa di figlia qua. E anche il giardino di figlia. E anche il giardino. E questa è stata una cosa magica, magica, che a me è piaciuta tantissimo. Sono rimasta entusiasta, contenta, felice di questa cosa che avete fatto. Adesso voglio fare un'altra cosa. Voglio fare una grande festa. Proprio grande, grande, grande. Dove vengono tutti. Dove ci sarete voi, ci saranno i vostri genitori, ci saranno i vostri fratelli, ci saranno tutti i vostri amici. E noi facciamo una cosa in Italia. Cos'è che dovrete fare? Io cosa dovrò fare? Con la mia magia. Cosa faccio? Eh, faccio le magie. Faccio le magie. E allora? Tutti gli umani del mondo. Sì, esatto. E lì c'è un po' di magia che... Dove le magie un po' a tutti, ma la cosa che faccio di più, farò di più. Nell'atrio della scuola, voi sapete quell'atrio lì? Sì. Quando ritraga... Quando ritraga...